Ulteriori forme di rafforzamento degli investimenti in Sicilia, soprattutto per le piccole e medie imprese. Finanziamenti fino a 5 milioni, che abbiamo messo in piedi grazie all'accordo con la Banca Europea degli Investimenti e la Banca Eccrea. Sino a 5 milioni, con un finanziamento a costo zero fino a 2 milioni e 3, finanziamenti a 20 anni per investimenti, ma anche per capitale circolante, cioè per la possibilità di risistemare posizioni esistenti. Quindi un ulteriore elemento di finanza alle imprese è il governo musulmanici, che in un momento così difficile appronta risorse finanziarie e strumenti di finanziamento alle imprese che servono proprio a reagire e a preparare la crescita, lo sviluppo che ha le parete.